Il probabile effetto della campagna vaccinale nel settore sanitario sul calo dei contagi da Covid-19 è il dato più rilevante che sembra emergere dall'ultimo report sulle infezioni di origine professionale denunciate all'INAIL pubblicato oggi. Infatti, l'analisi dei contagi del settore sanità e assistenza sociale nel bimestre febbraio-marzo fa registrare una netta inversione di tendenza, con una quota sul totale dei casi che scende sotto il 50%, contro il 67,5% del periodo complessivo a partire dall'inizio della pandemia. Nei due mesi di febbraio e marzo fanno invece registrare un incremento altri settori produttivi come i trasporti, i servizi di alloggio e ristorazione, il commercio e i servizi di informazione e comunicazione, che raccolgono in questi due mesi del 2021 circa il 20% delle denunce. Nel complesso il report indica un aumento delle infezioni di origine professionale denunciate all'INAIL dall'inizio della pandemia al 31 marzo. Sono adesso 165.528, in aumento del 5,6% rispetto al mese precedente, come i decessi che salgono purtroppo a 551 e rispetto a febbraio sono 52 in più. Quelle da Covid-19 rappresentano un quarto di tutte le denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'INAIL da gennaio 2020. L'analisi statistica rivela poi che la seconda ondata di contagi da nuovo coronavirus ha inciso in modo determinante sul bilancio totale dei casi. Il 66,1% delle denunce di infortunio, pari a 109.487, si registrano infatti nel periodo ottobre 2020-marzo 2021. Al contrario, per i decessi è la prima ondata a pesare di più. Il 62,8% dei casi mortali infatti è stato denunciato all'INAIL nel trimestre marzo-maggio 2020. Dal report emerge anche che se l'82% dei morti sono uomini, la maggioranza dei contagi, il 69,3%, riguarda le donne, mentre l'86,1% delle denunce è relativo a lavoratori italiani, percentuale che sale al 90,4% nei casi mortali.